Se dovessimo pure cominciare a lamentare del caldo non andremmo molto lontani. Oggi ci troviamo in Zioi, in coincidenza con l'uscita di un volume che avete visto su un nuovo ordine globale, che è un volume che affronta una volta di più una questione di cui sempre più in questi ultimi tempi si dibatte con autorevolezza di persone che si esprimono su questo tema e con ricorrente frequenza sugli organi di informazione, poco sulle televisioni, molto nei cerchi ristretti di addetti ai lavori. Questo del cerchio ristretto è un grande dramma a mio avviso, perché purtroppo, siccome non parliamo di un tema che affascina, anche se è un tema che condiziona la vita di tutti noi oggi, se ne ha una conoscenza limitata a mio modesto avviso e con l'uscita di questo volume, con gli scambi di idea che avremo oggi con autorevoli ospiti che hanno accettato di essere presenti e in modo particolare saluto il Presidente della Commissione Esteri della Camera, l'Onorevole Giulio Tremonti, vedremo, ma anche Marco Ricceri che ha curato questo volume e il Professor Barbieri che ne ha curato la prima parte, che quindi spiega molto bene di che cosa intendiamo parlare e qual è il tema sul quale intendiamo soffermarci oggi, cercheremo di dare un contributo. Il tema di oggi qual è? Il nuovo ordine globale. C'è un punto interrogativo, forse dovrebbe esserci? No, in realtà no. L'editore, i curatori, io stesso, che sono stato richiesto di scrivere due righe di introduzione, abbiamo convenuto senza neanche metterci d'accordo che non fosse proprio il caso di mettere un punto interrogativo se c'era un nuovo, se ci fosse un nuovo ordine globale o meno. Tanti e autorevoli sono state le persone che da tempo si pongono questa domanda. Un po' in tutti i livelli, in tutti i settori e in tutte le articolazioni della vita internazionale e del funzionamento di istituzioni multilaterali. E' di pochi giorni fa un articolo molto preciso dello stesso Presidente Tremonti sull'Europa, giustamente ponendosi il problema in quella che è la realtà più vicina a noi. E anche lo stesso Presidente Tremonti non ha speso mezzi termini, anche se lo ha detto con l'arguzia che lo contraddistingue intellettualmente, che ci sono una serie di cose che purtroppo non funzionano e che quindi deve essere affrontato anche il problema dell'Europa in maniera diversa. In una maniera che non è assolutamente quella la quale sembra che lo si stia o lo si intenda affrontare in questi giorni. Qual è il punto dal quale si parte? Direi che il punto dal quale si parte lo hanno riassunto in maniera molto efficace due personalità decisamente diverse. Il nostro Presidente della Repubblica intervenendo alla settimana sociale a Trieste in apertura e Papa Francesco intervenendo in chiusura. Le democrazie sono decisamente ammalate, non funzionano. E già il caratterizzarle ammalate sta a indicare che c'è un qualcosa che va un po' al di là di una semplice probabilmente influenza. Una malattia presuppone un qualcosa di un po' più importante. Il senso di questo libro che io ho definito un manuale è quello di aiutare a capire come sostanzialmente è organizzata la comunità internazionale e lo spiega in maniera molto efficace, eloquente il Professor Barbieri quali sono le crisi profonde alle quali la comunità internazionale e la comunità degli stati oggi è confrontata. Io intendo lasciare molto più spazio ovviamente agli oratori. Vi posso, ci terrei a sottolineare subito sin dall'inizio la mia personale visione è che il mondo di oggi è caratterizzato da due patologie visto che parliamo di malati molto precise un deficit di governance o una crisi della governance internazionale e a maggior ragione a mio avviso nazionale e un deficit di leadership che spiega la crisi della governance i due fenomeni essendo strettamente collegati crisi della governance è sotto gli occhi di tutti non è necessario aver fatto degli sforzi degli studi particolari o particolarmente approfonditi per capire che ormai su un'infinità di questioni tutti noi ci poniamo la stessa domanda ma com'è possibile? Com'è che è successo? E allora molti di noi hanno i capelli grigi nessuno di noi immaginava che a un certo momento dalla fine della seconda guerra mondiale noi ci saremmo trovati confrontati ad una guerra in Europa che in Medio Oriente purtroppo dal 1948 a oggi periodicamente avvengono dei fatti avvengono delle guerre e dei fatti di sangue tragici a fronte dei quali la comunità internazionale per una serie di circostanze non è in grado di trovare quella soluzione che è sulla bocca di tutti e che è nella testa e nei cuori di tutti perché non ci possono essere soluzioni diverse da quella di far convivere due popoli in due stati entrambi in sicurezza però non ci si riesce ma una guerra una invasione da parte di uno stato per il quale per decenni in Europa noi ci siamo attrezzati e organizzati per difenderci da quella invasione come il tenente drogo aspettava l'arrivo dei tartari io ero un drogo alla Nato all'inizio della mia carriera in piena guerra fredda quando schierammo gli euromissili per difenderci dagli SS-20 e poi per fortuna non sono mai arrivati i tartari e sono arrivati quando noi abbiamo smobilitato quando abbiamo smobilitato improvvisamente sono arrivati i tartari e perché non sono arrivati i tartari? per uno come me che ha dedicato tutta la vita ad un mestiere io lo definisco tale che era quello di cercare di impedire che i conflitti esplodessero e che anzi attraverso l'esercizio del nostro mestiere si potesse lavorare concretamente per la pace è stato un fallimento totale e perché la risposta che mi sono dato immediata è non c'è ricorsi alla diplomazia è stata trascurata la diplomazia giorni fa parlando con una persona mi diceva ma è mai possibile che i conflitti internazionali un tempo erano gli ambasciatori che gli lavoravano così come il pasticcere costruiva un dolce con le mani oggi sono i capi dei servizi segreti che svolgono attività diplomatica sono delle scelte però non c'è da sorprendersi se poi qualcosa non ha funzionato però ovviamente il discorso io adesso ho fatto una battuta che mi viene facilmente ovviamente proprio in considerazione del mestiere che ho fatto e che ritengo che sia stato trascurato questo mestiere quest'arma perché se no non saremmo arrivati al punto dove siamo arrivati le cause sono ovviamente maggiori le cause vanno ricercate sicuramente in una ovvietà la palissiana il mondo è cambiato il mondo non è più quello del 1945 per fermarci al 1945 è un mondo diverso dove sono cresciuti altra evidente verità la palissiana sono cresciuti gli attori che caratterizzano questo mondo noi siamo nati nel 1945 con cinque membri permanenti che erano i padroni della vita internazionale a torto o a ragione padroni della vita internazionale abbiamo creato nel 1945 una organizzazione internazionale e l'abbiamo voluta talmente creare talmente forte è stata la voglia di crearla che siamo riusciti a superare quell'impasse del 1919 che alla madre società delle nazioni impedì addirittura di essere ratificata dal proprio paese fondatore uguale gli Stati Uniti senza renderci conto che creavamo un piccolo mostro perché era e fu veramente una illusione pensare che a un certo momento un'organizzazione internazionale potesse funzionare soltanto se tutte e cinque i membri permanenti erano d'accordo e arriviamo a oggi dove ci stiamo rendendo conto per l'ennesima volta guardate alla crisi in Ucraina la guerra in Ucraina guardate alle guerre in Medio Oriente basta uno a fermare altri 192 allora il sistema non funziona e allora e la domanda vengo e poi vi lascio agli autori e ci dobbiamo dobbiamo accettare la realtà dell'esistenza di un nuovo ordine globale non sono più quei cinque non sono più quei gruppi ristretti che pure ogni tanto la comunità internazionale ha creato all'interno dei gruppi più ampi dove noi italiani ogni volta che si crea un gruppo ristretto dobbiamo mostrare tutte le nostre lastre le tac al torace non solo al torace per dimostrare la nostra credibilità affidabilità quando si parla di quint io ho degli amici che dicono ma il quint in realtà è un quad più uno perché è un quad che ogni tanto decide di riunirsi nel formato quint e quindi ci siamo anche nomi normalmente si unisce a quattro e c'è questa realtà c'è questa realtà ma non è una realtà che sarebbe completa se non tenessimo conto di altre realtà che si sono affacciate e che condizionano pesantemente la realtà internazionale di oggi che sono quelle che ripeto chiamiamo benvenuto alla nostra padrona di casa la direttrice Gabrielli del nostro che è la padrona di questo che è un'altra realtà che sono paesi che oggi hanno acquistato un peso sul piano internazionale di primissimo piano se ne parla poco sono i BRICS BRICS e qui l'autore Armando che mi piace ricordare ma anche Marco Briceri il Marco Riceri sono una realtà alla quale si sta dedicando ma quasi in maniera da carbonari un'attenzione particolare qui tutti si sono sperticati nel parlare dell'abbraccio tra Modi e Putin e ma loro appartengono alla stessa consorteria l'India insieme alla Russia e la Cina e il Brasile e il Sudafrica sono i fondatori dei BRICS di cui nessuno parla e che invece hanno un lavoro intensissimo di riunioni a tutti i livelli in questo libro lo scoprirete e di attività e di consultazioni continue e pensate quale può essere l'importanza di questo gruppo di cui ripeto nessuno parla se tenete presente che da gennaio di quest'anno nei BRICS è entrato l'Iran l'Arabia Saudita l'Etiopia vi rendete conto perché dico questo perché il G7 si può riunire quanto vuole e dove vuole sicuramente in nessun posto al mondo più bello della Puglia ma se nel 1976 quando nel formato A5 si riunivano davanti al camminetto di Rombouillet in quel momento lì c'era veramente il potere oggi il G7 non può risolvere alcun problema se non accetta di andare a cercare interlocutori in altri raggruppamenti a cominciare proprio dai BRICS senza i quali ipotizzare qualunque tipo di soluzione alla guerra in Ucraina o al conflitto in Medio Oriente non a caso tra l'altro ci sono attori dei BRICS che sono coinvolti nell'una e nell'altra guerra è impensabile poter immaginare qualunque soluzione ultima considerazione riguarda le organizzazioni internazionali le organizzazioni internazionali abbiamo detto non funzionano non è in gioco però la validità di quel sistema è in gioco un'altra cosa l'impossibilità o meglio l'incapacità delle organizzazioni internazionali di gestire le crisi e di impedire lo sbocco di determinate situazioni critiche in una crisi e allora non voglio anticipare le conclusioni che lascio a persone sicuramente che le affronteranno in una visione più completa della mia che ripeto io intendo semplicemente e anche in maniera provocatoria aprire il dibattito allora noi dobbiamo farci però una confessione su come funzionano le organizzazioni internazionali noi tutti siamo cresciuti nelle organizzazioni internazionali qui vedo autorevolissimi esponenti delle nostre forze armate che sono cresciute all'interno della NATO sicuramente non c'è una organizzazione che abbia mai avuto nella storia dell'umanità un'organizzazione militare efficiente come quella della NATO ha impedito la guerra no può risolvere la guerra è la NATO che risolverà la crisi la guerra l'aggressione russa l'Ucraina no non è possibile e l'ONU no perché io sono arrivato ad un'altra constatazione che lascio agli oratori le organizzazioni internazionali sono e fanno solo quello che gli stati membri e in particolare i più forti i più autorevoli decidano che esse siano e che esse facciano e aggiungo una constatazione alla quale sono arrivato molto più recentemente purtroppo quel deficit di leadership e la crisi di governance io la vedo anche all'interno delle organizzazioni internazionali dove i vertici delle organizzazioni e dei segretariati internazionali purtroppo non sono all'altezza delle responsabilità di quelle organizzazioni detto questo e ho parlato pure più di quanto intendessi mi viene in mente per capire un mondo che cambia io dico che è cambiato qui provo con gli oratori secondo me il mondo è già cambiato cedo vi ringrazio della pazienza di avermi ascoltato vi rinnovo i nostri ringraziamenti come sia per la vostra presenza e passo subito al professor Giovanni Barbieri per la sua presentazione del lavoro fatto in occasione della pubblicazione di questo volume prego grazie 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 mille grazie di essere qui io vorrei evitare di parlarvi del capitolo che ho scritto così insomma lo troverete pubblicato in questo volume che che è un volume sfidante sì come ha detto l'ambasciatore Sessa più che altro a me piacerebbe fare delle riflessioni a proposito del tema che sicuramente non è un tema semplice ed è un tema che avrò difficoltà a trattare qui con voi perché tantissimi dei punti che avrei voluto toccare sono stati appena toccati dall'ambasciatore per cui per cui io partirei dall'ultimo da uno degli ultimissimi punti che sono stati toccati cioè le organizzazioni internazionali di fatto funzionano secondo i desiderata degli stati membri più forti e allora per tentare di dare una risposta a la domanda o all'affermazione stiamo andando verso un nuovo ordine globale da ricercatore di relazioni internazionali secondo me il punto è proprio questo cioè negli ultimi anni marcatamente moltissimi commentatori e studiosi analisti sostengono che questo cambiamento sia iniziato nel 2008 cioè a partire dalla grande crisi finanziaria globale in realtà secondo me questo cambiamento ha cominciato a prendere piede all'inizio del ventunesimo secolo e cioè da quando la repubblica popolare cinese ha cominciato a giocare la parte del leone all'interno dell'organizzazione mondiale del commercio perché dico questo? Dico questo perché nel caso specifico dentro l'organizzazione mondiale del commercio dato che io tratto di multilateralismo in quel primo capitolo a partire da quel momento secondo me ha cominciato a maturare una crisi del multilateralismo nel settore della governance commerciale globale perché da parte degli stati dominanti all'interno dell'organizzazione mondiale del commercio c'è stata una sostanziale sottovalutazione del rischio di lasciare troppo campo largo alle politiche che la repubblica popolare cinese aveva cominciato a seguire a livello internazionale proprio in virtù di questo nuovo status di membro dell'OMC e secondo me questo è avvenuto per sostanziale responsabilità occidentale e anche per una sorta di neanche tanto velato opportunismo economicista che ha portato i paesi industrializzati a considerare la Cina per come poi la Cina si è presentata al resto del mondo cioè come la fucina del mondo la fabbrica del mondo il problema è che questo ruolo internazionale della Repubblica Popolare Cinese ha consentito alla Repubblica Popolare Cinese di mettere in atto quella che più o meno legittimamente secondo la politica nazionale della RPC era un piano di sviluppo a livello internazionale ma che poi nel lungo termine ha portato alle evoluzioni a cui stiamo assistendo oggi quindi in primo luogo sì le organizzazioni internazionali e il multilateralismo sono qualcosa che serve bisogna fare attenzione però a criticarle nella loro essenza perché la crisi di un meccanismo di multilateralismo o la crisi di un'istituzione internazionale sono in primo luogo responsabilità di chi quell'istituzione internazionale è chiamata a governarla e a farla vivere e questo è un primo punto questa riflessione si basa poi su un altro dato di fondo su cui secondo me da quando è venuto è venuto meno è caduto il muro di Berlino tantissimi decisori politici e anche analisti non hanno più pensato cioè che in fin dei conti benché la nostra civiltà dopo due guerre mondiali si sia evoluta e abbia concepito grandissime codificazioni internazionali che in qualche modo hanno normalizzato la vita internazionale ci hanno consentito di vivere in pace relativa e acquisire standard di civiltà che prima non erano pensabili però questi stessi decisori politici e anche studiosi si sono dimenticati che alla fine dei conti la vita internazionale è regolata dai rapporti di forza e questa è una cosa di fronte a cui ci siamo svegliati il 24 febbraio 2022 e lì il multilateralismo come ha funzionato lì il multilateralismo non ha funzionato ma non ha funzionato non tra il 20 e il 24 febbraio non ha funzionato nei vent'anni precedenti con riferimento ad esempio alla dimensione della sicurezza continentale europea multilateralismo per la sicurezza continentale europea mia personale riflessione perché si è potuti arrivare allo scenario a cui assistiamo oggi sul fianco orientale dell'Unione Europea perché ci si è approcciati all'idea di costruzione e approfondimento dell'integrazione dell'Unione Europea con troppo idealismo anche qui venuta a mancare la divisione dell'Europa in due blocchi forse l'ultimo esempio di realismo politico in senso compiuto è stato quello del rapporto dell'Or all'inizio degli anni 90 soprattutto per quanto riguarda la dimensione dell'integrazione economica e dello sviluppo della dimensione economica della comunità europea prima dell'Unione dopo ma poi tutti gli stati europei più o meno hanno preferito accomodarsi sui dividendi della pace garantiti dalla protezione in termini militari che arrivava da oltreoceano cioè dagli Stati Uniti che sono il partner maggiore dell'alleanza atlantica preferendo investire i maggiori proventi delle loro crescite economiche nell'ulteriore crescita economica in questo in questo senso ad esempio la politica commerciale internazionale della della Repubblica della della Germania è stata da manuale perché la Germania ha costruito un modello economico e di crescita che ha condizionato tutta la dinamica europea basata su una sorta di modello neomercantilista cioè acquistiamo energia a basso costo dalla federazione russa per metterci in condizioni di costruire un'industria in grado di esportare manifatture e prodotti finiti ad altissimo valore aggiunto e chiaramente in un'ottica di sicurezza continentale questo ha indebolito enormemente il progetto di Unione Europea non dico l'Europa perché io faccio sempre la distinzione tra Europa e Unione Europea l'Europa è un continente di cui tra l'altro la federazione russa condivide il 30% della placca continentale l'Unione Europea è un progetto politico però sul multilateralismo in tema di sicurezza continentale ma anche multilateralismo interno al progetto e al processo di integrazione politica dell'Unione Europea post guerra fredda non ci sono stati non c'è stato abbastanza sangue fredda e realismo da riconoscere che una costruzione di questo tipo avrebbe implicato molto più impegno è molta più presenza di spirito di quella che in realtà si è deciso di tenere questo banalmente ci ha portato alla situazione di stallo di fronte alla quale siamo oggi dentro le organizzazioni internazionali c'è anche secondo me un deficit di attenzione da parte dei paesi che fino a ieri hanno in qualche modo orientato la vita il funzionamento del sistema internazionale cioè è la sostanziale non comprensione di cosa siano i BRICS prima l'ambasciatore ha citato i BRICS è l'esempio dei BRICS plus io da ricercatore mi ricordo con quanta diciamo ilarità fino a qualche anno fa i miei colleghi mi guardavano quando venivano a scoprire che io mi occupavo di BRICS e studiavo i BRICS e io dal mio lato mi stupivo di quanta superficialità ci fosse in chi diceva ma che cosa ti occupi a fare dei BRICS che tanto non contano niente in realtà già una decina di anni fa c'erano dei segnali concreti che effettivamente i BRICS pur non essendo formalmente un'organizzazione internazionale ma semplicemente se possiamo considerarli così un allineamento diplomatico nel formato minimo molto minimo comunque qualcosa stavano cominciando a produrre un esempio di questo qualcosa è il fallimento del do around dentro l'organizzazione mondiale del commercio e dal loro punto di vista è stato un successo perché in qualche modo hanno bloccato l'adozione di determinate misure commerciali che oggettivamente ancora una volta non avrebbero tenuto in considerazione le istanze e le esigenze dei paesi in via di sviluppo ma il problema stava proprio lì cioè chi teneva le redini della vita internazionale del funzionamento del sistema internazionale ancora una volta non aveva tenuto seriamente in considerazione delle istanze che venivano proposte all'interno delle istituzioni internazionali e che in quel caso invece sono state raccolte interpretate e portate al successo da un attore che fino a quel momento era conosciuto semplicemente per avere un seggio al consiglio di sicurezza dell'ONU cioè la Repubblica Popolare Cinese è stata la Repubblica Popolare Cinese a coordinare con gli incontri scerpa dentro l'OMC quel tipo di negoziato multilaterale condotto nell'ambito dei paesi del sud globale che di fatto ha comportato il fallimento di quel round commerciale ma anche lì chi in teoria avrebbe avuto il capitale politico e anche il potere economico di prendere in mano nuovamente le redini della situazione per ripristinare un multilateralismo compiuto e funzionante per qualche motivo che io non riesco ad intuire ha ignorato quel tipo di segnale e ignorare quel tipo di segnale ha portato al degrado progressivo dell'ambiente del multilateralismo e soprattutto dell'ambiente di lavoro all'interno delle istituzioni internazionali il fondo monetario internazionale anche in questo caso è un esempio lampante cioè il fondo monetario internazionale che tradizionalmente è un direttore europeo al contrario della banca mondiale che tradizionalmente è un direttore nordamericano sono stati al centro di una polemica fortissima da parte della solita repubblica popolare cinese che si è messa alla guida in maniera proditoria o meno non sta a me dirlo ma si è messa alla guida delle rivendicazioni dei paesi invieti sviluppo per chiedere una riforma sostanziale dei meccanismi della governance monetaria globale ma anche in questo caso chi teneva le redini di quell'istituzione internazionale cioè dell'FMI è rimasto sordo e ha ignorato queste istanze e per quanto la risposta dei BRICS sia una goccia nell'oceano dal punto di vista dell'effettività e delle capacità di operazione di quell'istituzione si sono creati un equivalente uno speculare dell'FMI cioè la New Development Bank che in teoria dovrebbe emulare le funzioni dell'FMI anche se chiaramente non ha la forza né economica né politica per farlo però sono segnali segnali che ancora una volta sono stati ignorati ora su quello che può essere considerato il nuovo ordine globale io non mi sbilancio perché sono sempre stato convinto che su temi di questo tipo bisogna procedere step by step e ragionare nel presente di quello che succede senza sbilanciarsi in proiezioni o analisi o quant'altro di una cosa una cosa di cui invece sono molto sicuro è che anche se la storia non si ripete però può dare può offrire degli insegnamenti può offrire degli esempi e ad esempio nel contesto internazionale in cui ci troviamo adesso di profonda crisi del multilateralismo al punto che appunto la diplomazia viene condotta dai direttori dei servizi segreti e non dai diplomatici secondo me bisogna ragionare su un punto fondamentale che anche questo è stato citato cioè la crisi delle democrazie tutto quello che sta succedendo oggi anche in ambito politologico viene considerato come una sfida dei regimi autocratici contro i regimi liberal democratici io sommessamente dico che secondo me è una maniera sbagliata di declinare i termini della questione ed è una maniera sbagliata anche qui per un dato di fatto che è evidente cioè le liberal democrazie non hanno un problema con i sistemi autocratici né i sistemi autocratici in maniera dichiarata sistemi autocratici e o illiberali in maniera dichiarata hanno l'obiettivo di mettere in crisi le liberal democrazie per quanto riguarda l'insieme di norme e principi che le animano le liberal democrazie hanno un problema con loro stesse c'è chi dice che sono malate io mi spingo un po' oltre e dico che a mio modesto modo di vedere la grande sfida che c'è oggi con cui si può fare un parallelismo col passato ma non esiste un'equivalenza è che come nel passato esisteva una sfida tra mondo libero e mondo autoritario quindi democrazie occidentali e blocco sovietico oggi questo stesso tipo di confronto avviene tra sistemi politici che sono in grado di soddisfare la domanda interna della popolazione e sistemi politici che hanno sempre maggiori crescenti problemi a soddisfare questa richiesta politica cioè la richiesta politica dei cittadini delle liberal democrazie occidentali fa sempre più fatica a trasformarsi in output all'interno dei rispettivi sistemi politici e questo è un grande problema perché esattamente come succede per le organizzazioni internazionali mette in crisi lo stesso principio di legittimità di quei sistemi di governo cosa che invece dall'altro lato del mondo e segnatamente nei paesi BRICS o paesi del sud globale è una cosa che non succede o se succede succede in maniera molto limitata davvero limitata e in una misura che non è in grado di mettere in crisi quel tipo di sistema al contrario invece all'interno dei nostri sistemi politici noi vediamo tantissimi fattori di crisi che arrivano da una sostanziale incapacità come ho detto di garantire nel caso specifico dei tassi di crescita economica tali che siano in grado di mantenere in piedi lo scheletro delle liberal democrazia perché in definitiva lo scheletro della liberal democrazia è l'esistenza di un ceto medio che sia anche in grado di sostentarsi e questo da noi nei nostri sistemi non succede più e questo scenario è aggravato dal punto di vista internazionale dall'incapacità delle nostre liberal democrazia di interfacciarsi in maniera intelligente e pragmatica con quegli altri sistemi politici che continuano a macinare vantaggi su vantaggi nei nostri confronti questo è un dato di fatto e soprattutto nel lavoro di ricerca e analisi se non si parte dai dati di fatto difficilmente si può arrivare a delle conclusioni di senso compiuto quindi perché questo succede? questo succede probabilmente e qui esco un poco dal seminato dei contenuti del volume faccio una riflessione puramente personale posto che chiaramente è contestabile qualsiasi cosa che io abbia detto fino ad adesso secondo me questo accade perché uno dei problemi principali delle liberal democrazie oggi è la crisi radicale della politica intesa anche essa come istituzione cioè con la fine della guerra fredda soprattutto in Europa ma anche in Nord America in una certa misura è venuta meno la funzione principale della politica in un sistema di governo liberal democratico cioè quello di formare categorie di cittadini che partecipassero attivamente alla vita politica del proprio paese ma che soprattutto fossero formati alla partecipazione alla vita politica del proprio paese e mano a mano che si è andata avanti è cresciuto sempre di più un disinteresse verso l'istituzione politica che ha portato via via alla selezione di classi dirigenti sempre meno in grado di avere a che fare con la complessità che avanzava a livello internazionale e purtroppo questo non succede per l'altro tipo di sistemi politici cioè quelli autocratici e liberali che hanno dei metodi di selezione molto particolari poco condivisibili ma che è difficile dire che non selezionino persone in grado di affrontare le sfide che si presentano soprattutto soprattutto per quanto riguarda gli alti funzionari gli organi dello Stato i diplomatici ad esempio la Repubblica Popolare Cinese quindi mi segnalano che io ho finito il mio tempo quindi insomma mi sono lasciato un po' andare però avrei voluto condividere tante altre riflessioni però queste mi sembrano quelle più pregnanti e calzanti per un dibattito proficuo anche per i relatori che seguono grazie Marco Ricceri che è il segretario generale di Eurispes probabilmente non c'è bisogno che ve lo presenti e anche però questo lo dico volentieri membro autorevole del consiglio direttivo della SIOI coordinatore di questo volume lui nel volume parla si sofferma sull'Artico che è una realtà la quale noi in SIOI sulla quale noi in SIOI lavoriamo già da parecchi anni però adesso non so oggi su cosa ti vuoi soffermare a Marco la parola grazie allora grazie innanzitutto alla SIOI al suo presidente grazie all'onorevole Tremonti che è qui con noi stasera che è veramente un grande onore grazie all'editore dottor Iacometti che ha creduto in questo progetto e agli autori che sono qui presenti due flash introduttivi il presidente Sessa l'ha definito un manuale non è sbagliato come diceva Montaigne sono strumenti che servono ad accendere un fuoco vediamo non riempire un vuoto ad accendere un fuoco questo è il punto quindi questo è un libro che è il risultato di una riflessione fra gruppi di esperti fra un gruppo di esperti che per anni si è incontrato ad analizzato processi a livello internazionale e via via scoprendo una realtà estremamente complessa che ci fa parlare oggi del mondo che cambia del multilateralismo che si trasforma in multicentrismo e così via ecco qual è la diciamo il valore tutti noi sappiamo che esistono molti organismi di coordinamento all'interno nei continenti attenzione non solo organismi informali come il G20 o il G7 o i BRICS ma proprio istituzioni di coordinamento e se andiamo a vedere siamo proprio entrati in una fase in cui vecchie istituzioni di coordinamento si stanno rivitalizzando oppure ne nascono di nuove oppure si formano delle realtà istituzionali riconosciute dal diritto internazionale che sono veramente molto molto originali cioè i nuovi protagonisti che cosa noi possiamo benissimo trovare sui siti di web le informazioni e quindi possiamo anche ricostruire un quadro di questa complessità però se applichiamo un metodo sistemico cioè analizziamo questi organismi dal punto di vista istituzionale economico sociale e culturale e allora lì vengono fuori le sorprese spesso noi le guardiamo dal punto di vista della sicurezza o dal punto di vista del commercio dei fatti economici eccetera ma se le guardiamo nell'insieme vengono fuori i dati che ci dicono quale è il grado di intensità del processo di cambiamento in corso questo è il punto faccio un caso preciso in Africa noi abbiamo l'unione africana come organismo di coordinamento continentale l'unione africana è il punto di riferimento di otto organismi di coordinamento subcontinentale che riguardano l'Africa dell'est dell'Africa dell'Ovest l'Africa del Sud dell'Africa dell'Nord tutte istituzioni con tanto di organismi ben strutturati consigli dei ministri assemblee parlamentari gruppi di lavoro e così via corte di giustizia e così via l'ha affrontato molto bene il professor Zucca dell'ASDA Bocconi di Milano che è qui presente ecco questi organismi hanno un riferimento programmatico al 2063 quindi non guardano solo al 2030 o al 2050 sono proiettati al 2063 nei loro documenti ti dicono continuamente che vogliono organizzare dei loro modelli di sviluppo non vogliono i modelli di sviluppo europei terzo hanno dei progetti diciamo di impegno politico che riguardano per esempio la costruzione di una moneta alternativa al dollaro e all'euro questo vale per l'Unione Africana ma vale anche per alcune delle organizzazioni subregionali l'Ecovas che è della parte occidentale africana ti dice io voglio costruire la mia moneta sto costruendo la rete doganale il libero mercato ma voglio anche la mia moneta allora non siamo di fronte solo a una proposta provocatoria che può essere emersa all'interno dei BRICS siamo all'interno di una situazione che ha preso un ben preciso connotato nel continente africano e se io vado a vedere sul sito la sede dell'Unione Africana o le sedi delle proprie organizzative le sedi permanenti di queste strutture rimango allibito sede dell'Unione Africana di Sabeba richiama e equivale ai palazzi dell'Unione Europea a Bruxelles cioè si sono anche strutturati in Sud America che è stato affrontato da Gianluca Tonini questo ci sono degli organismi noi parliamo di Mercosur di CELAC poi scopriamo che ci sono degli organismi l'alleanza del Pacifico che ha trovato una formula di costruire convenienze dalla parte orientale verso il Pacifico e dalla parte occidentale verso l'Europa che ha un tale successo per cui attualmente ha 63 stati osservatori permanenti l'alleanza del Pacifico fatta col Messico Columbia Cile ha 63 osservatori permanenti che si ritrovano con sedi permanenti diciamo che seguono i lavori eccetera nel sud-est asiatico troviamo l'ASEAN la SCO eccetera l'ASEAN si presenta come un modello alternativo all'Unione Europea con l'ASEAN l'Unione ha molti rapporti però loro ti dicono noi non vogliamo la complessità del sistema europeo vogliamo viaggiare col minimo denominatore vantaggi comuni e così via cioè stanno creando un modello alternativo di cooperazione in cui il sistema dei valori portato avanti dall'Unione Europea è integrato arricchito da valori che sono proprio di quelle realtà un caso tipico è che noi parliamo sempre di diritti individuali di stato di diritto giustamente e loro ti dicono ma per noi è fondamentale la comunità il diritto della comunità noi siamo nati in Africa con le tribù in Asia con le comunità e così via perché non riconoscete questo discorso ecco questo è il l'aspetto importante un operatore economico un operatore politico che va in questi continenti oggi si trova di fronte a delle realtà estremamente strutturate avanzate impegnate a costruire i propri assetti e i propri progetti questo è il valore allora di questo chiamiamolo manuale cioè ad andare a prendere coscienza del grado di intensità e di complessità che queste realtà hanno preso e nel momento in cui voglio costruire rapporti di collaborazione in Africa come in America del Sud e nei Caraibi come diciamo nell'Oceania devo veramente attrezzarmi per entrare dentro questi processi questo è il messaggio che oggi ci sentiamo dovere di offrire ringrazio e chiudo l'ambasciatore Sessa che ha introdotto questa pubblicazione Giovanni Barbieri che ha illustrato il multicentrismo Fabrizio Zucca della Sdabocconi che è qui che ha lavorato sull'Africa Ludovico Semerari li vedo tutti qui per i primi avutori sul regionalismo in Nord America anche questo va studiato il modello di cooperazione portato avanti dagli Stati Uniti è completamente diverso da quello che noi organizziamo come Unione Europea diciamo non vuole vincoli istituzionali per intendersi il punto chiave è quello ringrazio Giuseppe Davvicino per il saggio sulla Nato Gianluca Tornini per l'America Latina e poi Giuliano Bifolchi per l'Unione Economica Euroasiatica Riccardo Testa per Mediterraneo Mar Nero Silvia Boltuc sulla Lega Araba e Last but not least questa onorevole è una proposta molto originale Melchionda con tutta una struttura portano avanti l'L20 gli ultimi 20 l'AS20 c'è un G20 e andrebbe considerato con molta attenzione anche l'L20 grazie Presidente adesso a lei chiederei cortesemente di tirare delle conclusioni ma soprattutto credo che siamo qui tutti molto ansiosi di ascoltarla perché siamo certi che la lettura che lei vorrà darci dell'attuale momento e poi di tutto quello che è uscito fuori negli interventi che l'hanno preceduta ha smosso perché insomma qui di cose ne sono state smosse parecchie l'ascoltiamo prego tanto grazie il libro è il nuovo ordine globale è un libro che guarda al futuro io credo che per traguardare il futuro sia utile capire il tempo presente e per capire il tempo presente anche sia pure modiche quantità del tempo passato allora il tempo presente noi viviamo al principio di questo millennio la prendo un po' alla lontana ma cerco di spiegarmi al principio di questo millennio viviamo vediamo un tempo molto simile a quello che è stato visto e vissuto alla metà dell'altro millennio nel 500 Shakespeare Hamleto Mundus dice time is out of joint in effetti se uno guarda cosa è successo nel 500 non è molto diverso da quello che è successo negli ultimi tempi la faccio molto veloce la scoperta dell'America si sposta all'asse geopolitico dal Mediterraneo all'Atlantico e poi al Nuovo Mondo nascono gli stati e nazioni cedono le nostre antiche e gloriose repubbliche Palazzo Venezia era l'ambasciata della Repubblica nascono nuove religioni più business friendly della cattolica romana e in qualche modo quando studiava c'era scritto sui libri che lo scisma era causato dalla volontà di aver di sposarsi in seconde nozze no volevano bypassare le regole diciamo religiose sui tasse di interesse secondo l'invenzione della stampa prima il sapere era chiuso e controllato nei monasteri come il nome della rossa la stampa diffonde il sapere e lo fa su scala istantanea e universale ed è così che abbiamo Copernico Galileo Cartesio Cogito e Gossum la base della scienza mondiale terzo l'invasione da est presa a Costantinopoli la marea musulmana si presenta ai confini dell'Europa Lutero ed Erasmo vedono pericoli per la cristianetà il primo assedio di Vienna è dell'elementare 5% quarto il primo grande default finanziario globale il regno di Spagna va sei volte consecutiva in default enormi masse di ricchezza per un secolo l'argento fu ancora monetato l'argento monetario a Genova messa su economia rurali rompono gli schemi metà del Cinquecento Giansonio scrive a Colonia un libro intitolato Mundus Furiosus per indicare l'intensità dei cambiamenti che vedeva chi viveva arriviamo oggi la scoperta economica e poi politica dell'Asia la Cina e altro secondo non sono andato all'ufficio brevetti ma non cogito ma digito ergo sum e cioè dire una nuova esistenziale modernità che ci si presenta nella forma dell'intelligenza artificiale terzo da est l'attacco all'occidente è un solo attacco dall'Ucraina fino al Mar Rosso è un'unica guerra ed è una guerra fatta contro la nostra civiltà in difesa delle loro tradizioni quarto io credo il rischio non ancora presente o meglio non ancora intenso e attuale ma il rischio di una crisi finanziaria ai miei tempi l'unità di conto dei soldi era il billion che già era un'entità paperonica pensati al trillion un po' di anni fa ho scritto un libro considerato che i diritti d'autore erano estinti ho scritto un libro intitolato Mundus Furiosus con una specifica tutto quel caos occupò l'arco di un secolo i fatti che vediamo adesso con una cifra una intensità rivoluzionaria occupano trent'anni quanti sono gli anni che vanno dal principio della globalizzazione alla sua in qualche modo crisi quella che vediamo quella che viviamo la faccio abbastanza breve nell'89 cade il muro di Berlino nel 94 95 il war trade nel 2001 l'ingresso dell'Asia nel war trade già di fatto ma formalmente nel 2001 nel 2008 la grande crisi finanziaria e arriviamo oggi credo tempi che potevano essere sviluppati dalla caduta del muro in poi in tempo più lungo e più saggio e invece tutto è stato concentrato ed esploso in un tempo molto breve perché sono pochi anni quelli che danno avvio al cambiamento del mondo io ricordo gli illuminati ci parlavo li vedevo anche molto carini e cortesi io litigavo con Fukuyama che sosteneva la fine della storia la storia è tornata con gli interessi arretratti e accompagnata dalla geografia era una frase in un qualche modo rivoluzionaria enormi interessi economici anche devo dire ideali ricordo tanti che dicevano momentum ora o mai più da dove viene fuori in un qualche modo tutto questo sarò abbastanza breve i due padri dicono di essere credo che non siano stati i padri di internet internet era chiuso nei forzieri della Nato caduto il muro i forzieri si aprono dicono eravamo giovani non avevamo capitali avevamo una visione anche al dipartimento di stato avevano una visione e tutto questo processo si sviluppa su una piattaforma su una base il SFA di ideologia permissiva e progressiva tanto ed è stata quella l'ultima utopia del novecento la prima era il comunismo questo è il globalismo l'uomo nuovo per un mondo nuovo un mondo senza confini e senza conflitti quando si insedia il presidente Obama dice non abbiamo il passato abbiamo solo il futuro invece in un qualche modo la storia è tornata e siamo adesso nella mia personale esperienza di attività diciamo di scrittura e attività politica un po' confesso di essere stato critico sulla globalizzazione colpa che allora era terribile che adesso credo in qualche modo sono tutti diventati non globalisti la domanda è ma dove eravate prima ma in ogni caso io ricordo nel luglio dell'89 il Corriere della Sera mi chiese un articolo sul bicentenario della rivoluzione 1789 controllando il territorio controllava la ricchezza il controllo della ricchezza gli dava in monopolio le leve militari le tasse la giustizia era evidente che la ricchezza stava e questo avrebbe avuto effetti politici il Corriere intitolò quell'articolo una rivoluzione che svuoterà ai parlamenti vedendo già in qualche modo allora elementi di quello che poi sarebbe successo il muro cade in novembre luglio viene prima di novembre il muro sarebbe caduto comunque per altre ragioni nella mia esperienza politica confesso di aver fatto politica il punto ho in qualche modo visto la fine del G7 il principio del G20 e poi il tempo presente allora ancora il G7 Rambouillet e tutto era un corpus politico unificato da un codice linguistico l'inglese da un codice economico il Washington Consensus da un codice politico la democrazia occidentale 700 milioni di persone il resto dell'umanità in un qualche modo miliardi votava intorno al G7 io ricordo pur rappresentante di un governo non maggiore del G7 tuttavia la intensissima richiesta di incontri da parte di paesi che non erano nel G7 il G20 che esisteva prima ma era un modo dove mandava in vacanza i sottosegretari diventa importante con la crisi e diventa un luogo politico per due anni centrale nella governo del mondo non si parla più inglese intorno a quel tavolo parlano con orgoglio la loro lingua pur sapendo l'inglese non è unificato da un codice politico io ricordo che quando si identifica una una strategia economica di reazione gli americani in un giorno la mano visibile dello Stato bypassa la mano visibile dello Stato la mano invisibile del mercato nazionalizzano le banche in Europa facciamo l'ex strategia i cinesi dissero noi siamo comunisti faremo politiche keynesiane per inciso fecero la città centrale per due anni quello è stato in qualche modo il centro della politica mondiale convinti tanti che il rischio di conflitti di guerre fosse elevatissimo in caso di fallimento del G20 nella sede del G20 il governo italiano fece la proposta del Global Legal Standard non puoi vivere in un mondo dove l'unica regola è che non ci sono regole Global Legal Standard era aggrandizzato come bozza di un trattato e per inciso fu votato dall'Assemblea dell'Ocse per esempio fu presentato in tante sedi internazionali anche alla scuola centrale del partito comunista cinese dove ha avuto occasione di incontrare l'ambasciatore si confronta quella ipotesi per inciso sono andato a rivederlo nella bozza archeologia forse no all'articolo 4 c'era scritto rispetto di regole ambientali e igieniche mi dice nulla sul covid fu battuto dal cosiddetto Financial Stability Board che diceva non servono regole basta stampare moneta e l'effetto lo stiamo in un qualche modo vedendo e per tanti effetti ometto solo di ricordare che il presidente dell'FSB era un italiano che ha avuto sia pure per qualche tempo un certo successo vince il Financial Stability Board e in un qualche modo ancora delle parole le trovate nei comuni che per esempio nell'ultimo del G7 ma anche in quelli del G20 voi trovate due o tre righe che dicono rule based trade cioè dire l'idea che il commercio deve avere una qualche base di regole tuttavia è una formula convenzionale non come dire non rappresentativa di una effettiva scelta politica di la logica di allora qui mi avvicino ai discorsi di ordine nella logica del Global Legal Standard era una versione moderna di Bretton Woods come il mondo durante la guerra organizza la sua economia così potrebbe essere con il Global Legal Standard potrebbe essere una una prospettiva com'è adesso ma ho parlato fin troppo com'è un po' la geografia del mondo adesso com'è in che termine cosa allora Cina puoi immaginare ricordo che la conversazione fatta dopo presentata la la proposta di Global Legal Standard a Pechino ho finita una conversazione il giorno dopo e era una persona anche allora già molto importante chiude l'incontro e disse vorremmo diventare un po' ricchi prima di diventare troppo vecchi e se volete è una profonda saggezza non banale credo che la Cina abbia un enorme problema demografico e i problemi demografici non li vedi sul tempo breve li vedi su una prospettiva 10, 20, 30 anni l'altro drammatico problema che ha la Cina è che non ha la libertà può avere la tecnica la spinta sul digitale è il tentativo di compensare i problemi demografici ma puoi anche avere milioni di ingegneri ma puoi avere la tecnica la scienza presuppone la libertà non ci hanno i vaccini e questo secondo me è un dato guardando la prospettiva di questi paesi in un qualche modo l'unione centrafricana ormai sto divagando a caldo eccetera mi ricordo era l'ONU c'era i Gheddafi rappresentando l'unione parla per due ore e mezza inchiodando tutti e poi gli fa le domande una domanda da giornalisti anglosassoni è vero che bloccate le immigrazioni camps certo quanti ne volete 20.000 io ve le mando secondo non avete la democrazia e dice parola tra l'altro Gheddafi che a me non era simpatico però era oggettivamente un uomo intelligente e dice democrazia è parola antica che deriva da due parole ancora più antiche demos e kratos nella mia tenda intorno alla mia coltrona abbiamo una forma di democrazia e poi gli chiedono e questo ti dà l'idea della data gli chiedono com'è il seggio all'ONU della Germania Gheddafi dice a me risulta che il seggio abbiano le potenze che hanno vinto la guerra la Germania non ha vinto la guerra poi rivolgendosi al presidente italiano che faceva gli scongiuri dice almeno gli italiani l'hanno ucciso Hitler no si è dovuto suicidare detto questo io credo che ci siano enormi complessità e la costruzione dei BRICS la formula come schema generale però tra l'altro non ho sentito parlare del Giappone che mi sembra come di capire che è ancora la terza economia del mondo che per inciso si sta riammando quindi secondo me la formula dei BRICS è molto suggestiva tra l'altro sento dire a democrazia beh comunque non voglio fare l'avvocato dei BRICS ma in Brasile hanno la democrazia votato non è vero che i paesi hanno sistemi politici che consentono posizioni diverse dalle nostre in India hanno votato finiscono invece questo è un discorso serio da politico sulla democrazia ma poi posso parlare a lungo quello che volete ma la democrazia ha funzionato a lungo fin tanto che da quando è stata inventata non parlo della Grecia quando la natura e l'origine dei problemi che ti presentavi alle elezioni per governare erano problemi in un qualche modo conclusi chiusi nei confini nazionali e quindi eri credibile nella richiesta del voto per la tua capacità o possibilità di superare di gestire quei problemi a volte ma anzi quasi sempre un po' esagerando un grande democratico come era il Presidente il Cancelliere Bismarck diceva non ho mai sentito tante bugie come dopo le battute di caccia o durante le campagne elettorali e poi un certo effetto di droga massiccio fu fatto quando furono inventati i grandi debiti pubblici il problema drammatico ma io credo comunque superabile per la democrazia è che l'origine e la dimensione dei problemi non è più solo chiusa nei confini nazionali problemi reali o sentiti e quindi ancora peggio se tu vai in giro uno dei problemi sono le migrazioni ora in sé l'importo non è particolarmente rilevante ma nell'immaginario è la paura che si riaffaccia alla porta della tua villetta e poi i disordini e la violenza nelle strade secondo punto la ricchezza finanziaria supera i confini nazionali e può creare dei defetti non particolarmente democratici non ho mai dimenticato la storia degli spread che era chiaramente un caso di fascismo bianco che non puoi dire a maggio che i conti sono perfetti e un mese dopo mandare le lettere detto questo poi l'altro problema che secondo me e qui finisco molti dei problemi che muovono modificano il voto il pensiero il sentimento che molti dei problemi sono problemi che vengono dal futuro a partire dall'intelligenza artificiale le macchine ruba lavoro tanti ti dicono e i miei figli e i miei nipoti tutto questo rende in un qualche modo difficile la democrazia e tuttavia in ogni caso in un qualche modo c'è l'abbiamo vista in Inghilterra da ultimo vediamo voto ho detto comunque in in India questo un altro punto e ci hanno messo un mese a contare i voti perché sarà anche un Brix ma sono incasinati in modo infernale perché non hanno i collegamenti interni quindi è sicuramente un gigante però al suo interno ha ancora enormi problemi quindi un punto e finisco realmente non voglio abusare della vostra no Africa è un punto nel lontano 2000 proposta di legge di iniziativa popolare popolare si fa per dire era Berlusconi Bossi Fremonti ed era la proposta sull'immigrazione una parte diventò la legge Bossi-Fini che sarà ma è ancora in piedi adesso dopo tanti anni quindi vuol dire che non era così la proposta invece prima era aiutiamoli a casa loro ma non era l'egoismo di era il rischio se i giovani vengono qua quelle società si destabilizzano e diventano oggetto di attenzioni destabilizzanti e quella fu l'idea di ricordo era inventamola dei tax che era tu vai in un negozio compri un paio di scarpe l'Europa rinuncia a un pezzettino di va a sei negozio in una rete di volontariato attiva in Africa ed era un'idea che nel 2001 circolava in termini molto positivi in Europa io ricordo che ho scritto un articolo sulla detaxa su Le Monde la prima pagina di Le Monde nel giorno sbagliato l'11 settembre e da lì tutto è un po' cambiato ma quella del piano Mattei è un'altra strategia che secondo me va presa in cosverso puoi dire ci sono idee ma non ci sono i soldi io mi farei dare i soldi dagli arabi che col petrolio hanno un sacco di soldi perché non possono avere interesse a aiutarci grazie Presidente grazie credo che l'abbiamo ascoltato a tutti con grande attenzione come peraltro i due oratori che l'hanno preceduta qui accettano l'idea di una domanda ci sono c'è qualcuno che vuole cogliere questa occasione per fare delle domande qui abbiamo toccato tutti i temi possibili immaginabili lei ha menzionato il Giappone non noi qui ce l'abbiamo ben presente neanche a fare apposta proprio oggi abbiamo parlato di Giappone quindi i temi sono tantissimi c'è proprio una domanda dalla persona con cui abbiamo parlato di Giappone c'è neanche un'altra lì prego prima tanto un giugno dicevo più che una domanda io ho una considerazione che volevo fare qui si parla di nuovo ordine internazionale ecco la domanda che secondo me bisognerebbe porsi siamo davvero convinti che i BRICS vogliono l'instaurazione di un ordine internazionale diverso non tanto da quello in atto adesso definito correntemente attrazione americana ma l'ordine internazionale tradizionale quello che ha consentito il superamento della guerra fredda cioè l'ordine internazionale in cui si rispettavano rigorosamente tutti i principi del liberal international order i principi del liberal international order sintetizzati per fare presto diciamo nei dieci punti di Helsinki quest'ordine internazionale che ha portato alla fine della guerra fredda e all'intesa mai sufficientemente ricordata del settembre del 90 ad Helsinki tra Bush e Gorbaciov che dette vita come di aprire la strada alla unificazione della Germania e anche l'approvazione di quella risoluzione del consiglio di sicurezza che consentì l'intervento militare nel golfo ecco in quel momento effettivamente la guerra fredda finì veramente perché si era creata tutto sommato quel sinallagma che è la sanzione dell'intesa veramente operativa se non c'è un sinallagma se qualcuno dà e nessuno riceve evidentemente l'intesa non è poi veramente efficace in quel momento è finita la guerra fredda sulla base dei principi del liberal international order dopo quella data quei principi sono stati largamente violati largamente violati con l'abbandono del principio che per l'adazione di misure militari ci voleva la sanzione del consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite è stato anche violato il principio della non interferenza negli affari interni dei paesi terzi con l'adozione apertamente dichiarata della politica del regime change rispetto a questi principi siamo sicuri che i BRICS non siano invece in sintonia con quei principi come a mio avviso emerge dalla lettura attenta dei communiqué finali dei summit che regolarmente anno per anno tengono nelle varie capitali dei paesi membri ecco io questo mi chiedo il nuovo ordine internazionale dei BRICS è veramente un ordine di sovversione o sarebbe un ordine di ritorno a quello che era l'ordine che ha consentito l'assoperamento della guerra fredda questa è la mia domanda forse il presidente Fremonti ma io prima di vorrei invitare i chioratori a rispondere in due minuti ciascuno per poi farti dare le conclusioni al presidente la prossima domanda deve essere un decimo del tempo che ha occupato il nostro amico comincerei da lei che l'ha definito un allineamento diplomatico i BRICS cioè la versione nel formato minimo va bene a lei la prima ma proprio un minuto sì o no forse questo è già una risposta nel senso che negli ultimi anni c'è stata un'attività di ricerca frenetica sulla crisi dell'ordine liberale internazionale the demise of liberal international order eccetera eccetera quello che secondo me emerge in maniera inequivocabile è che tutta la riorganizzazione dei paesi in via di sviluppo catalizzate dal BRICS dai BRICS avviene proprio per i due motivi che ha citato lei cioè che i fautori dell'ordine liberale internazionale cominciata l'era dell'unipolarismo hanno cominciato a violare sistematicamente i principi che ne formavano il funzionamento per cui per rispondere in maniera secca secondo me anche leggendo i documenti ufficiali quello che questi paesi auspicano per propaganda o no non si potrà mai sapere finché non saranno messi nelle condizioni di assumersi delle responsabilità concrete è un ripristino del funzionamento integrale delle Nazioni Unite e soprattutto l'accettazione del principio del pluralismo politico nella vita internazionale cosa a cui si richiamano continuamente Marco allora se io guardo Ricceri è il coordinatore di un osservatorio BRICS da anni quindi lui è di parte probabilmente no non è vero allora se io guardo gli elementi che unificano i BRICS trovo primo tutti i documenti dall'inizio del coordinamento parlano di esigenza di una riforma delle Nazioni Unite non c'è la rottura del sistema ma c'è la riforma secondo tutti i documenti si muovono secondo la piattaforma e l'agenda della sostenibilità vogliono concorre al con il resto del mondo a affermare la sostenibilità terzo a settembre ci sarà il patto per l'Assemblea delle Nazioni Unite sul patto per il futuro dove si proverà a disegnare le nuove visioni e tutti i governi ripeto tutti i governi stanno firmando documenti in cui c'è scritto bisogna intensificare la cooperazione nazionale internazionale il problema è questo è chiaro è retorica non credo e la seconda domanda ma noi stiamo ci stiamo muovendo in maniera giusta oppure commettiamo degli errori di approccio io concordo molto grande interesse per quello che ha detto pochi leggono quanto ha scritto Putin un po' i Mein Kampf che forse avevano letto tutti ho comprato tutti non aveva preso su sera nessuno Putin dice molte cose fondamentali la prima è la catastrofe della politica mondiale è stata la caduta della Russia avviene anche attraverso violente forme di intromissione politica e finanziaria dall'Occidente quello che è stato fatto al principio degli anni 90 in Russia è in un qualche modo inimmaginabile comunque è un cambiamento di regime da una struttura a una follia di oligarchi di ladri di corruzione devastante certamente questo è uno dei punti che hanno poi via via molti impegni sono stati violati trascurati non rispettati questo colpa dell'Occidente non possiamo dimenticare quanto è stato fatto lei dice l'accordo Gorbaciov Bush e poi via 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 oggettivamente molto è stato fatto per non curanza per una dei limiti dell'Occidente è la mania di esportare la democrazia se uno legge la carta atlantica trova scritto che la democrazia parte dal basso e non dall'alto e idea che rispetto a cui è molto rifattaria la signora Clinton ricordo si era un bianco perché diceva non è come un McDonald non è una commodity la democrazia o nasce dal basso o succede un casino questo è successo in tanti posti un nuovo ordine potrebbe essere in effetti un ritorno come lei dice a quella ideologia a quella logica a quella di scambio il global liga standard era il tentativo di allineare su una base minima di rapporti commerciali paesi che restavano diversi non sono pessimista sull'ipotesi che possa ritornare in un qualche modo però credo che sia molto complesso in ogni caso adesso siamo in guerra e non è una guerra banale non è una guerra che terminerà è una guerra che avrà comunque un seguito di notevole rilevanza poi verrà anche l'ordine globale c'era allora un'altra domanda e poi un'altra lì prego sì grazie Fabrizio Bozzato faccio base a Tokyo la Sasakawa Peace Foundation e quindi vorrei molto brevemente offrire tre punti sul Giappone il Giappone continua primo il Giappone continua a scommettere sulle democrazie liberali e sul sistema basato sulle regole sulla base di considerazioni molto pragmatiche e di consapevolezza della propria geografia a est il Giappone si affaccia sull'Asia e trova federazione russa Cina Corea del Nord mentre ad ovest si proietta nel Pacifico dove trova amici come gli Stati Uniti che cominciano con le Hawaii e l'Australia secondo è vero il Giappone si sta riarmando con la benedizione di Washington ma quando si parla di sicurezza a Tokyo prima di tutto si parla di sicurezza economica che è uno dei cavalli di battaglia dell'amministrazione Kishida terzo il Giappone continua fruttuosamente a tessere un dialogo con parte dei paesi BRICS e dei paesi emergenti ricordiamo che già nel 2007 Abe Shinzo formulò il concetto di corridoio di coprosperità Asia-Africa quindi con quei paesi il Giappone non parla di sicurezza ma prima di tutto di coprosperità terzo plus si è menzionata la sede dell'organizzazione dell'unità africana ricordiamoci che ha costruito quella sede monumentale la Cina grazie può raggiungere qualcosa sul Giappone mi pare questo è molto chiaro non lo mettiamo in dubbio prego si si può anche me la molte grazie grazie a tutti grazie all'onorevole all'ambasciatore dottore e professore per questa bellissima presentazione piccola digressione simpatico all'argomento Giappone Nisi Roberto Università di Kyoto di base a Tokyo quindi salve tutti i giapponesi oggi allora per quanto concerne la domanda brevissimo dono della sintesi a fronte di questi interventi di questa conversazione anche del testo quanto effettivamente quest'ordine sia nuovo e quanto effettivamente quest'ordine sia uno perché giustifico un brevissimo minuto l'interpretazione che si ha alcuni studiosi ovviamente non tutti se è ancora una minoranza è che tutto sommato l'ordine di Persano sta cambiando non c'è questo grande scisma culturale alla Huntington occidente oriente cristianità islam ma è più che altro uno scisma dovuto in parte anche a quello che l'onorevole ha menzionato prima ovvero il suo quando ha detto digito ergo sum quel discorso di Bauman dell'homo videns quindi in un contesto di globalizzazione in cui un cittadino italiano può trovare un proprio compasso morale magari in alcuni contesti in alcuni valori che sono cinesi o giapponesi c'è uno spopolamento non tanto dell'impegno politico di per sé ma dell'interesse politico mi rilascio a quello che diceva il professore all'inizio su questo disinteresse politico c'è uno spopolamento di quella di questo compasso morale perché si trovano altri lidi a cui fare riferimento ma al contempo esiste una collettività globale che vediamo e la vediamo si è parlato molto di Nazioni Unite a me ha colpito e lo menziono per beneficio argomentativo di tutti il 26 aprile del 22 a seguito dell'invasione del 24 febbraio il Liekstein un paese che penso abbia fatto poco la storia delle Nazioni Unite è riuscita a far passare un'interessantissima risoluzione del segretariato generale scusatemi dell'assemblea generale in cui ogni volta che il consiglio di sicurezza usa il veto un paese usa il veto automaticamente entro dieci giorni l'assemblea generale dal 26 aprile 22 deve rivotare la stessa cosa è un voto che ha valenza simbolica ovviamente però chiedo questo quanto si sta cercando di determinare un compasso morale ecco grazie sentiamo anche vediamo Maurizio prego grazie no io quando ho chiesto la parola era per ricollegarmi a quanto diceva il professore ed in particolare al fatto che nel 2008 come ricordava il presidente Tremonti di fronte alla crisi vi fu l'attivazione del G20 e nelle unioni di Washington e di Pittsburgh oltre a quanto appunto le ha fatto scenno di processo che ha portato poi le regole di Basilea tutta una serie di diciamo di norme che hanno cercato di affrontare la crisi poi naturalmente negli Stati Uniti è stata affrontata in un modo in Europa è stata affrontata in un altro vi era anche il concetto che i paesi emergenti avrebbero avuto una maggiore presenza e una maggiore responsabilità negli organi di governance mondiale in particolare nelle istituzioni finanziarie internazionali i cinesi sono riusciti bene o male nel sistema generale degli Assi Uniti a piazzare delle posizioni importanti la FAO altre eccetera però nelle istituzioni finanziarie internazionali diciamo questo non è accaduto e qui a quel punto la Cina l'India hanno costituito dei loro sistemi di finanza internazionale naturalmente sono paesi fra loro molto eterogenei hanno un interesse comune che è quello di avere una capacità di tenere un rapporto contrattuale con l'Occidente però credo che forse se da parte nostra si riprendesse questo tema di rilanciare le organizzazioni nelle quali noi finora abbiamo avuto una funzione di libera e di in qualche modo consentire una presenza maggiore questo probabilmente potrebbe rilanciare un sistema nel quale noi siamo maggiori interessati perché diciamo un sistema basato sulla legalità di fronte ai mutamenti che ci sono nel mondo credo che sia la cosa alla quale noi dobbiamo avere il maggiore interesse ecco non so se questa le pensa che sia una prospettiva recuperabile oppure se è troppo tardi grazie il 2008 2009 in effetti fu il periodo nel quale si attivò una grande discussione internazionale politica e quando diciamo G20 in effetti molti erano ripresi che adesso si dicono Brix c'era una rottura c'era un'apertura dal vecchio G7 a tutto il resto del mondo la grande responsabilità civile fu manifestata da tanti la Cina per esempio e tanti altri paesi vinse la immorale idea della finanza la immorale idea della finanza il vecchio mondo era libertà egalità fraternità il nuovo mondo il lato scuro della globalizzazione mica tanto scuro e l'opposto è Marché Monet non mi ricordo cos'altro va bene la profonda immoralità della finanza fu rappresentata dal cosiddetto Financial Stability Board torno a dire scusate ma non voglio sembrarvi ma quando a Francoforte al cambio delle consegne tra i due che si complimentano per quanto sono stati bravi in platea di applaudire ci sono i capi di Stato e di governo europei ma voi avreste visto De Gasperi Adenauer De Gaulle Cossiga applaudire i banchieri centrali abbiamo salvato il mondo sostenevano ecco io credo che una base di costruzione di un ordine diverso debba essere sull'economia reale sulle regole non nell'idea del primato della moneta e della finanza sulla realtà ed era lo spirito di quel periodo e quello fu secondo me nella storia poi 20 anni durano anche poco io credo che d'altra parte torno a dire Bretton Woods fu questo fu il lungimirante tentativo di creare un ordine economico per il mondo che finita la guerra si sarebbe aperto tra realtà diverse e credo che questa sia la grande questione il lato giusto della storia è quello sono accordi civili economici regole non è il primato della finanza su tutto il resto questa è ci ho sempre creduto pensato io sono convinto che devo dire adesso siccome le cose vanno male prendete ma finisco prendete la crisi dell'Europa il lato della nuova Europa secondo alcuni celebrati rapporti uno ignoto ma comunicato all'elite l'altro stampato è dal lato della della finanza non è il lato giusto della storia è quello della politica della morale delle regole no non è il lato della finanza certo il mondo quando ti dicono non voglio assemblarvi polemico ma quando ti dicono in questi anni di globalizzazione l'America è cresciuta l'Europa è andata indietro perché non ha investito in tecnologie no perché c'è stata la globalizzazione infatti è salita la Cina cioè uno che pensa che questi siano i criteri secondo me va beh c'è una signora che vuole fare la domanda non possiamo prego così concludiamo in bellezza anzitutto grazie mille io avevo una piccola curiosità in realtà sul ruolo della regione artica in questo nuovo ordine globale in particolar modo su si parla si sente spesso parlare di vera e propria corsa all'artico ovvero sia di attori internazionali che vedono proprio nello scioglimento degli acciaio una vera e propria opportunità mi riferisco alla possibilità di nuove rotte commerciali lo sfruttamento di risorse naturali eccetera ecco ora io mi domando se questi stessi attori sono i protagonisti sono in prima linea diciamo così a una vera e propria lotta al cambiamento climatico ora io mi domando se si può parlare di insomma se ciò è suscettibile di generare un certo paradosso comunque una contraddizione tra la corsa e l'artico e quella che siamo insomma la transizione ambientale da cui oggi tutti siamo in qualche modo colpiti no 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 onestamente no 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 dunque allora ma dirò una roba non particolarmente ortodossa già altre le ho dette dunque un grande storico un vecchio storico Leruala Durie scrive un libro intitolato La storia del clima ed è un libro fatto con la tecnica della ricostruzione dei dati contenuti nei registri delle parrocchie europee perché per secoli nelle parrocchie si registravano i dati i nati i morti le guerre e il clima e da lì vedi le onde nel clima e quindi periodi di glaciazione di freddo di siccità ci sono in qualche modo sempre stati per inciso è banale dirlo ma Groenlandia si chiama così perché era verde adesso se ci vuole sopra e grigia detto questo io penso che i grandi fenomeni di intensificazione di cambiamento delle strutture climatiche sono stati portati dalla globalizzazione prima c'era l'industria se uno legge quanto scriveva sulla geografia Stalin si rende conto che canali modificava la struttura ma quello che succede sul clima è causato da enorme quantità di carburante di pessima qualità portato in giro per il mondo con i container cioè mai stato nella storia un traffico di questo tipo quindi puoi immaginare che una parte del cambio climatico sia in qualche modo fatale generale una parte sia causata anche dall'uomo poi naturalmente questo non può essere l'alibi per non fare nulla per certo chi investe sulla per esempio un caso geopolitico interessante è la Groenlandia colonia danese fortemente fortemente interessata ai fenomeni di cui stiamo discutendo no? e ma è tutto abbastanza cioè se uno non dico che io frequento il cremlino ma quelli si illudono di avere un futuro e anche di battere la Cina perché avremo l'Artico ma dall'Artico passano merce cinesi oppure non serve un tubo quindi non è detto che una rottura dello schema sia però effettivamente il clima impatta in termini notevoli sulla regione quello si ha detto un sacco di cazzate ma Presidente grazie io credo che abbiamo abusato un po' della vostra pazienza della pazienza dei nostri ospiti che ringrazio ovviamente ringrazio in modo particolare il Presidente Tremonti del quale abbiamo apprezzato una valutazione a tutto campo sulla quale ovviamente ognuno poi ha le proprie chiavi di lettura ma che certamente ci riconduce un po' al tema di fondo dal quale ci eravamo mossi e al quale ci eravamo ispirati immaginando la presentazione di questo di questo volume non abbiamo mi pare avuto delle risposte consensuali se questo mondo poi è cambiato o meno ognuno di noi lascerà questa sala con non dico questo dubbio ma secondo me con questa domanda ma molti di noi avranno poi trovato sicuramente una risposta che ciascuno taglierà e cucirà in funzione dei propri credo su quella che è la realtà internazionale sulla quale però io lo dicevo in apertura si sono affacciati dei protagonisti talmente numerosi e talmente diversi rispetto a quelli con i quali noi eravamo abituati a vivere ci confrontavamo con il presidente tre mondi dice ma noi quando abbiamo cominciato a lavorare allora così abbiamo ideato e ideato abbiamo ricordato certi periodi indubbiamente noi ma anche molti di voi siamo cresciuti in un certo mondo abbiamo ciascuno nelle proprie professionalità espresso il meglio di noi stessi per realizzare non era la corsa al far west ma o alla ricerca dell'oro ma un mondo migliore noi diplomatici lo cito volentieri non solo perché riguarda me ma anche perché vedo parecchi colleghi in sala abbiamo certamente dato il meglio di noi stessi a quello che sembrava essere un sogno di classi politiche diverse cioè quello di organizzare quello che noi poi artisti della parola abbiamo definito con architettura di sicurezza europea la cui mancanza o il cui fallimento a mio avviso è all'origine poi di tutte le disgrazie che sono succedute dopo e che stanno ancora succedendo con errori enormi che sono stati commessi io sostengo da tempo che l'Occidente è arrivato a spingere la Cina nelle braccia della Russia o viceversa che è l'errore più grosso il problema di fondo è perché avevano bevuto e quindi avevano commesso un errore era un omicidio stradale oppure era gente che non era più capace di guidare questa è la domanda che io per esempio mi faccio quando parlo di crisi di governance il presidente Tremonti diceva ma vi immaginate voi De Gasperi Schumann o Adenauer davanti a delle pronunce dei presidenti delle banche europee stare lì zitti e applaudire ma non ci andavano neanche allora c'è qualcosa che non ha funzionato e questo è qualcosa che continua a non funzionare sul quale noi qui in Sioi ma mi fa piacere vedere che non siamo i soli ci stiamo interrogando e ci stiamo lavorando con l'aiuto di tanti molti dei quali sono qui presenti che quindi ringrazio è chiaro che c'è tutto un mondo che si sta muovendo non sono solo allineamenti diplomatici non è solo il fatto che nessuno prima si chiedeva perché i BRICS esistevano e quando si muovevano giorni fa ho letto sui giornali ma io sono abituato ad andare a cercare pure la notizia più piccola che c'è stata una riunione della organizzazione di cooperazione di Shanghai io sarà perché ho vissuto in Cina ma nessuno sa che cos'è la cooperazione Shanghai Cooperation Organization la SCO e beh ma è un'organizzazione che non solo dal punto di vista militare cari ammiragli e caro generale ha una sua importanza fondamentale tant'è vero che al vertice della SCO sono intervenuti i capi di stato e di governo Xi Jinping era lì in prima persona e chi è molto attivo oggi è l'Iran di cui nessuno parla ma che è invece un attore importante allora per forza di cose tutto è cambiato però questo ci ritorneremo in occasione di una nuova puntata di queste conversazioni che cercheremo di organizzare alla SCO non dico sperando di avere sempre il presidente Tremonti perché se no poi rompiamo un rapporto di stima reciproca però non vogliamo rubargli sempre il tempo mi veniva in mente due anni fa c'è stato il G20 a Roma a proposito dei turisti della storia vengono invitati per rituale propiziatorio alla fontana di Trevi all'invio della moneta indietro non si erano accorti che non erano in 20 ma in 18 perché mancava le vostre la cena questo ti dà l'idea della classe politica che c'è stata grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti